Secondo giorno del Castellabate Film Festival, sempre in signa di tanto divertimento e molte risate dei piccoli bambini, che si sono cimentati anche oggi mattinata, proprio come ieri, in ben tre attività, yoga dalle 9 alle 10 e 30, corsi di teatro e storytelling a colori dalle 10 e 30 alle 12. Tra i diversi esercizi seguiti, immersi nella natura, con tanto di tappetino e una vista a mare mozzafiato direttamente dal Castello dell'Abate, insieme a molteplici dipinti, caratterizzati da schizzi di ogni colore e una moltitudine di prove di recitazione, i giovani fanciuli hanno replicato quanto di straordinario realizzato nella giornata di ieri, tra risate, scherzi e anche una buona dosi di fantasia, che non manca mai.